I parlamentari abusivi, come sancito dalla Corte Costituzionale nel 2014 e poi dalla Cassazione, devono essere cacciati dal Parlamento. A dirlo a Chieti è Antonio Pappalardo, generale dell'Arma in Congedo, già deputato e sindacalista dei Carabinieri. A capo del Movimento Liberazione Italia, che raccoglie esponenti delle forze dell'ordine, ma anche agricoltori e pescatori, dice lo stesso Pappalardo, l'ex capo di Stato Maggiore d'Abruzzo e Molise si è presentato nel capoluogo Tiatino per reclutare altri attivisti e per organizzare la mobilitazione dell'11 settembre. Tutti a Roma piazza Montecitorio, dice Pappalardo, annunciando l'appuntamento alle ore 15. Consegniamo questa sentenza e diciamo ai Carabinieri, nel vostro regolamento c'è scritto che voi curate l'osservanza delle leggi e nello stesso tempo eseguite i provvedimenti dalla magistratura. Questo è un provvedimento. Eseguitelo. Eseguitelo perché non è possibile che questi signori facciano provvedimenti abusivi, nulli, inesistenti, il decreto sui vaccini. Io lo strapperemo in faccia perché non esiste per noi. Il Jobs Act, l'accordo CETA con il Canada che distruggerà tutta la nostra produzione, lo YouSoli, queste madornalità che si stanno inventando, noi le strapperemo in faccia perché non esistono. Noi che cosa diciamo al popolo italiano? Una tappa fondamentale, una data storica. Qualcuno dice che l'11 settembre sono cadute le due torri. È un fatto semplicemente occasionale. E dopo via il governo tecnico che faccia finalmente una nuova legge elettorale, proporzionale, sottolinea l'ex generale, perché sulla scheda elettorale gli italiani devono poter scrivere nome e cognome del proprio candidato. E solo dopo il capo dello Stato potrà indire le elezioni. Bene, io dico venite, perché quello è il momento importante, rilevante, unico per il popolo italiano di impedire lo sfacelo e di dare una nuova Italia alle future generazioni e soprattutto ai nostri figlioli.